Ciao Lara, come stai? Tutto bene? Ciao, sì, molto bene, grazie. Come è andata quest'anno? Il corso è frequentato per prima cosa? Quest'anno è andato tutto benissimo, ho frequentato il corso di dermopilamentazione per il viso, quindi di trucco cromatico semipermanente. È stato un bel corso, anche abbastanza lunghino, che è giunto al termine da poco. Mi sono trovata molto bene in questa scuola, mi piacerebbe comunque fare altri corsi, io sono quindi un'estetista e è un lavoro che ti porta sempre ad avere una formazione continua. Quindi hai intenzione comunque di continuare a fare? Sì, certo, certo, senza altro, ma assolutamente. Grazie. Cosa hai fatto più 11 anni o cosa hai fatto? Avrebbe andato al corso di giusto di gratuito. Ok, come è andata quest'anno? Molto bene, più di quanti versi e tassi, ho imparato un sacco di cose nuove che non avrei mai pensato di fare e penso che anche il trucco artistico mi potrebbe interessare. Ah, ok, quindi hai intenzione di poi fare qualche altro corso? Sì, molto probabilmente sì, oltre che riguardante il trucco anche l'estetica, quindi il corso di extension o comunque la nominazione. Ok, avessi a Procellani che hanno frequentato che è la scuola? TF1. TF1, quindi trucco fotografico. Com'è andata quest'anno? È andato bene, è stato un anno ben impegnativo, però ho parlato un sacco di cose. Di bene. Lei, dovete sapere, è la ragazza che è arrivata al secondo posto al contest Egipcia Fashion Lab, quindi volevo chiederti qualcosa riguarda questo. Quando l'avevo scoperto che ne sei arrivata un po' di sicurezza, un po' di sicurezza, un po' di sicurezza? Assolutamente, complimenti. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Antonella Vesino, ho frequentato quali creati della BCM, prima di eseguire i corsi di estetica, la pratica professionale, quest'anno i corsi di specializzazione. Ok, è andato tutto bene quest'anno? Certo. Ok, ti volevo chiedere di mandare un messaggio a tutti coloro che l'anno prossimo inizieranno a frequentare i tuoi stessi percorsi. Io consiglio a tutti vivamente di frequentare questa scuola, perché una scuola europea prepara meglio gli allunni ad affrontare il lavoro. Grazie mille. Ciao, tu sei? Io sono Francesca, sono qui al secondo anno in BCM di estetica, proprio oggi ho concluso il mio percorso con l'esame finale e devo dire che sono molto contenta perché nonostante i due anni particolari sono riuscita a prendere tutte le competenze che speravo, insomma, di acquisire. Quindi sono pronta per entrare nel mondo del lavoro. E adesso cosa hai intenzione di fare? Specializzarsi? Sicuramente farò il terzo anno perché diciamo che approfondisce l'aspetto dei macchinari e oltre a quello, poi se uno vuole nel mio caso, appunto, borlò, riuscirò ad aprire anche un negozio e un'attività in futuro. Quindi mi sembra alberta migliore. Grazie a te. Grazie a te.